Campi e strade allagati, un tappeto d'acqua che sormonta tutto. Sono queste le impressionanti immagini delle sondazioni del fiume Secchi avvenuta dopo le piogge forti che hanno colpito due giorni fa il modenese e provocato la rottura di 80 metri dell'argine. Sott'acqua 10.000 ettari di superficie agricola per una piena come se ne vedono ogni 50 anni. Danni ai terreni, alle attrezzature, ai centri aziendali. Secondo Confagricoltura un vero disastro, perfino più grave dei danni provocati dal terremoto del maggio del 2012. Circa 1.000 persone tratte in salvo dai vigili del fuoco ma si tratta di un dato in continua evoluzione. Gli sfollati sono ospitati nei centri di accoglienza di Modena Est e Mirandola, Carpi e Soliera. Le scuole restano chiuse in attesa di un miglioramento della situazione climatica con la protezione civile che però ha prolungato lo stato di allerta fino alle 21 di domani e non esclude nuove esondazioni. Un allarme che riguarda in particolare i bacini del Secchia, del Panano, del Trebbia e del Taro e la pianura che vanno da Modena, Reggio Emilia fino a Piacenza. Per comprendere le cause del disastro verrà presto istituito un comitato scientifico con i cittadini delle zone già colpite dal terremoto nel maggio del 2012 che parlano di tragedie annunciate e promettono di avviare una class action contro l'incuria con cui sarebbe stato ottenuto il corso e l'argine del fiume 6.